L'ultima campanella è suonata da poco, ma la caccia per riempire lo zaino inizia adesso. Se comprati al supermercato, i libri scolastici pesano meno sul portafoglio. Se si associ di Unicap Firenze, nel caso dei testi nuovi, si può arrivare a risparmiare un quarto del costo totale. Per esempio, su 100 euro spesi se ne risparmiano 25. Andremo in prenotazione, ad accettare le prenotazioni dei libri dal 24 giugno. Le modalità sono anche quest'anno due. Quella che conviene di più ovviamente è prenotare online sul nostro sito www.copfirenze.it I libri scolastici nuovi danno diritto a un buono sconto sulla spesa e per prenotarli basta un clic. Sul sito www.copfirenze.it è possibile cercare un singolo libro o caricare la lista di tutti quelli adottati in una classe grazie al codice della scuola. Controllata la lista, riempito il carrello virtuale, i testi potranno essere ritirati in uno dei 31 punti vendita Unicap Firenze abilitati in Toscana. Quest'anno si è aggiunto Certaldo. L'utente sarà avvisato via cellulare o via mail all'arrivo dei libri. Al momento del pagamento sulla tessera socio sarà caricato un buono spesa virtuale. C'è un risparmio, un risparmio che è dato da un 25% di sconto con una meccanica di accumulo di un credito sulla tessera sociale. Bostrà appunto presentare la tessera sociale alla cassa e verrà riconosciuto sul valore dell'acquisto dei libri scolastici il 25% che accumulerà sulla tessera appunto e sarà spendibile immediatamente dalla spesa successiva su tutto il prodotto a marchio Coop e freschissimi. L'anno scorso 7 soci su 10 hanno prenotato sul web. È possibile comunque richiedere i libri nuovi al banco allestito nei punti vendita. In questo caso il buono sconto è del 15% da usare dalla spesa successiva sempre su tutti i prodotti a marchio Coop. Ma al supermercato ci sono anche i testi scolastici di seconda mano. C'è la possibilità di vendere a Unicop libri usati e le verrà riconosciuto un buono sconto del valore del 30% sul prezzo di copertina 2014 che sarà spendibile dal giorno successivo fino al 31 dicembre 2015. Chi compra i testi di seconda mano paga il 60% del prezzo di copertina. Chi vuole portare i libri usati trova la lista di quelli accettati sul sito www.coopfirenze.it dove prenotare anche la consegna. E poi c'è un vantaggio in più. Per tutti i libri acquistati, nuovi e usati, i soci accumulano un punto ogni euro di spesa. Grazie.